Il livello di incertezza è piccolissimo. Pensate che le complicazioni capitano con una frequenza dello 0,0003, 0,005% entro questo range, entro questi limiti. Quindi 0,303, 0,305%. Non c'è nessuna altra attività umana che è, secondo me, così sicura. Se prendi l'aereo e vai in autostrada da Milano a Napoli, mettiamo, la probabilità che ti succeda qualcosa è più alta dello 0,0003%. Protegge del 70% vuol dire che 7 persone su 10 non avranno nessun sintomo, ma la cosa più importante è quella che dicevo prima e di cui nessuno parla. È un po' curioso che la cosa più importante non ne parla nessuno. Forse perché abbiamo la tendenza a vedere sempre le cose negative, che poi questa è relativamente negativa, e mai le cose veramente positive. Tutti i vaccini proteggono del 100% dalla malattia grave. È una cosa straordinaria. Se un anno fa mi aveste detto avremo un vaccino che protegge della malattia grave del 100%, io non ci avrei creduto. E questa è la notizia. Tutte le altre sono cose meno rilevanti. Tenete presente un'altra cosa. Secondo voi, di quanto protegge, con questa definizione di protezione, il vaccino anti-influenzale, che fanno tutti, che cercano tutti, avrete visto la polemica in Lombardia, perché è anche giusta magari, perché non c'erano i vaccini, protegge del 50%. Vuol dire che su 10 che si vaccinano, 5 prenderanno l'influenza. Però il vantaggio è che anche quei 5 che sono vaccinati e che prendono l'influenza, avranno un'influenza molto più lieve di chi non si è vaccinato. Quindi se il vaccino contro il Covid-19 avesse protetto dopo i 14 giorni del 50%, noi medici saremmo stati molto contenti perché 5 non si ammalavano e gli altri 5 non si ammalavano in modo così grave da aver bisogno dell'ospedale. Invece siamo arrivati al 100% di protezione della malattia grave. Questo è un miracolo. Invece 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 Invece